Questo è un remake di una conferenza che avevo fatto sempre qui nel 2016 parlando di un progetto su cui sto lavorando da un buon po' di tempo. È qualcosa che ho cominciato in università come tesi magistrale stratta di un protocollo di trasporto, di sicurezza, di cifratura e di autenticazione. È un work in progress ancora e il lavoro che c'è da fare dietro è ancora parecchio. Prima di tutto, visto che questa è una conferenza improvvisata, vediamo se mi ricordo ancora cosa comprende tutta questa presentazione. Allora, di cosa si tratta? Come vi ho detto prima, è un protocollo di trasporto. Stiamo cercando di prendere tutto quello che è TLS, TCP o anche UDP e autenticazioni come Kerberos ad esempio e metterli in un pacchetto unico. Vedere cosa viene fuori e il risultato di tutto questo è uno strumento molto compatto è pensato per concentrarsi sulla sicurezza e è estremamente efficiente. Il problema è un po' che andiamo a rompere quello che è la classica pila dei protocolli ISO-OSI a cui siete abituati, quindi il classico protocollo di trasporto, layer di sessioni, eccetera. e magari vedremo meglio dopo. Questi sono gli argomenti che tratteremo principalmente. Il focus di questo progetto è staccare completamente l'autenticazione e un'applicazione dalla gestione della sua sicurezza. Come vedrete tutti, dopo tutta l'autenticazione è fatta in una maniera completamente federata. La prima domanda è, ne abbiamo seriamente bisogno? Cioè, di protocolli di trasporto ne abbiamo parecchi e di batteria ne abbiamo meno. Quindi vediamo di riattaccare in velocità Speravo di avere più batteria, ma qui è vecchio e dura poco Dai che ce la fai Continuando all'argomento I protocolli di trasporto comunemente usati li conoscete un po' tutti c'è il TCP, l'UDP Quanti di voi conoscono protocolli un po' più avanzati come SCTP o DCCP? Mai sentiti? Stiamo parlando di protocolli di trasporto pensati, nati negli anni 2001 per SCTP 2006 per DCCP Non hanno preso molto piede perché essendo protocolli che stanno sopra i P hanno il problema di hanno il problema di passare attraverso i firewall i firewall generalmente ti fanno passare giusto quello che è TCP o DP natano quello che possono il resto lo buttano via e basta ma SCTP è un protocollo apparecchio interessante perché ha introdotto il concetto ha introdotto due cose il concetto del multi streaming ovvero il potere avere più stream di dati all'interno della stessa connessione e il potere decidere se quello stream è trasmissione reliable quindi stile TCP o completamente unreliable quindi stile UDP e non ha i meccanismi di ACK dietro per recuperare pacchetti vari se avete seguito mi immagino l'evoluzione di altri protocolli più nuovi tipo QUIC o MINIMALT sono invece protocolli che cercano di portare MINIMALT ha un focus più sulla sicurezza QUIC invece ha altri focus più sulle performance sul cercare di mettere insieme TCP e TLS in un unico pacchetto non fanno un protocollo completamente nuovo stanno sopra UDP per poter passare attraverso i firewall molto più facilmente ed è molto usato adesso circa il mi sembra dell'ultima figure si è il 60% del traffico verso YouTube adesso è tutto su QUIC però è un protocollo in continua evoluzione anche questo abbastanza nuovo gestito completamente dalla Google come cifratura abbiamo il classico TLS QUIC in realtà riprende TLS MINIMALT è fatto da DJB se conoscete il famosissimo criptografo ha un focus puramente sulla cifratura a chiave ellittica è molto più statico non è flessibile quindi non è come in TLS dove si possono cambiare cifrare eccetera ma è molto interessante se volete darci un'occhiata e poi come autenticazione abbiamo i classici Kerberos che ha problemi di sincronizzazione dei clock come sapete in Kerberos se due computer cercano di autenticarsi in Kerberos ma hanno gli orari che sono più di 5 minuti fuori uno dell'altro l'autenticazione non funziona o out purtroppo perché mi piace molto poco e speed che ormai da italiani conoscerete abbastanza bene ne ha seguito un po' l'evoluzione dall'inizio quindi insomma di varie alternative ne abbiamo però già il fatto che dobbiamo scegliere tra le tante alternative è un problema per gli sviluppatori non c'è un non c'è un unico protocollo che ci metta tutti insieme e metterci su TLS ci limita ad avere ad esempio connessioni tutte tutte reliable quindi tutte stile NTCP non possiamo usare a niente stile UDP e se vogliamo avere qualcosa di un po' flessibile abbiamo uno stack di 5-6 protocolli diversi più poi tutti i problemi che si porta dietro o out dove non provate mai a fare un'implementazione vostra perché sbaglierete ha sbagliato Google ha sbagliato Facebook ha sbagliato mi sembra anche Twitter nell'implementazione si sono portati dietro diversi bug di sicurezza non indifferenti magari all'inizio ok allora parlavamo prima della pila dei protocolli OSI qui avete più o meno la classica pila di protocolli che usate nell'applicazione web con l'autenticazione o out TLS per la cifratura che in realtà vedete che non ha un corrispettivo diretto sulla sulla pila ISO non si sa dove si mette la sicurezza potrebbe essere a livello tra 4 e 5 un po' prima anche a livello di IP con IPsec simili però il problema è che seguendo questa seguendo questa classica pila vedete che ci sono parecchi protocolli che reimplementano ad esempio il livello di sessione abbiamo una sessione TCP una sessione TLS una sessione per i cookie delle nostre applicazioni web una sessione per o out nel mezzo abbiamo HTTP che non ha sessioni gestire tutto quello dalla vostra applicazione è un bel casino peggiora come dicevamo prima se volete cominciare a usare multistack per gestire non so stream audio video e cose del genere per il multicast dovete farvi tutti a mano sicurezza compresa non c'è assolutamente niente che vi salvi parlavamo prima di di out speed ecco quello che fa qui allora ok il problema sta sempre nei layer qui che minima il T cercano di mettere insieme TCP e TLS o out sta sempre comunque sopra tutte le applicazioni che trovate oggi comunque non fanno uso dell'autenticazione che potete trovare in TLS perché è problematica da gestire dovete passarvela dal TLS al vostro browser web al vostro scusa server web che dopo deve passare all'applicazione ci sono un po' di passaggi nel mezzo e nessuno lo usa il problema principale di queste autenticazioni è che non sono federate perfino o out che quando vedete il pulsantino login with facebook login with google è sempre tutto out è un sistema semifederato nel senso che fin quando il sito fin quando il mio sito si fila di google io devo mettere esplicitamente il pulsantino login with google però visto che out funziona con pagina web l'autenticazione su una certa pagina web ogni implementatore ha una pagina web differente che tra l'altro ha parametri leggermente differenti quindi o avete l'implementazione per google per facebook per twitter o non avete o non avete insomma autenticazione quindi è un sistema semifederato perché abbiamo diverse federazioni google facebook eccetera ma non si parlano tra di loro come abbiamo descritto prima il layering ci porta a gestire la sicurezza a livello applicativo quindi abbiamo abbiamo preso un problema che dovevamo gestire noi a livello di tls e l'abbiamo ogni volta rimandato un layer più alto e quindi è tutta roba che deve gestire il programmatore e il programmatore in realtà se avesse uno strumento che potesse gestire l'autenticazione e la sicurezza di suo lo userebbe come cercano di fare adesso con le librerie per o-out e fine e di nuovo tutto quanto o-out speed eccetera viene gestito via via http che a livello di efficienza è una schifezza abbiamo una serie di 7-8 ore direct nel mezzo passiamo per due browser web diversi come vediamo per il user action sotto questo è preso direttamente dalla specifica di speed non sto a spiegarvela tanto ma potete immaginare come sia problematico anche dover gestire il redirect perché questo significa che le vostre applicazioni in realtà ogni volta che usate o-out hanno bisogno di un server web interno quindi altre cose che possono andare storto e altra complessità aggiunta e spostata a livello applicativo quindi per risolvere tutta sta cosa prendiamo la federazione a livello Kerberos e splittiamo i quattro ruoli che si possono avere abbiamo l'applicazione il client manager che è il diciamo il server Kerberos lato client che usate per ad esempio Active Directory che è semplicemente un'applicazione che vi gestirà dopo le le vostre le vostre autenticazioni i vostri token di sicurezza il server di autenticazione che è la controparte dell'autoserver e il servizio che può essere il il le pagine web o qualsiasi altra cosa cosa ci porta a una separazione secca degli obiettivi quindi possiamo fare in modo che le applicazioni e i servizi non abbiano accesso uno all'altro non abbiano scusate non abbiano accesso a database di autenticazione degli utenti a dei token che invece con no out dovete gestire tutti voi e dovete salvare il token di quell'utente se è un replay se ci sono le librerie che un po' vi danno una mano ma fino a un certo punto separando seccamente queste due cose avremo praticamente una specie di TLS barra Kerberos che gestirà il client manager l'authentication server e la vostra applicazione a parte caricare quella libreria non dovrà vedere assolutamente niente perché anche quella libreria stessa non avrà accesso a informazioni di autenticazione rispetto a Kerberos le novità portate sono che usa i token come Kerberos quindi dopo un primo utilizzo delle vostre password per verificare che siete veramente voi si passa all'uso di token generati all'istante che possono essere tracciati cancellati istantaneamente e che possono tracciarvi e sono costruiti in maniera che vi traccino non solo l'applicazione ma anche il device su cui vi state autenticando quindi non so ad esempio perdete il cellulare bloccate tutto per il cellulare fino a quando non l'avete ritrovato o definitivamente cancellate il token se vi è stato rubato e fine perché c'è una gestione del token anche lato server che vi permette di fare questo i servizi sono a loro volta identificati da token e questo ci permette di staccarci completamente dall'identificazione del servizio come semplicemente dupla di protocollo porte tipo il server web tcp80 tcp443 se voglio usare ssl e una cosa molto carina che ci permette di fare è che ci permette di mettere qualsiasi servizio su qualsiasi serie di porte o altro che ci permette di uscire dal problema del gestire le da due problemi uno del virtual hosting e due è quello del fatto che le porte inferiore alla 1024 sono porte privilegiate quindi teoricamente solo root potrebbe usarlo quindi stiamo spostando addirittura tutta la gestione dell'applicazione completamente in user space che insomma è una cosa in più sempre per la sicurezza come prima è una stiamo parlando di autenticazioni federate quindi potreste avere il vostro server di autenticazione per il dominio che preferite voi però la federazione è costruita all'interno della all'interno del protocollo quindi io ho il mio server di autenticazione idealmente google avrebbe loro si riescono a parlare automaticamente qualsiasi sia il mio non serve che ci mettiamo d'accordo con trust addizionali per non so come succede per oout che deve avere il pulsantino per google per facebook e per altro voi come client dovete solo fidarvi del vostro server di autenticazione quindi di nuovo potrete usare il vostro normale dominio fino a un certo punto in realtà perché per come è costruito tutto quanto purtroppo non abbiamo tempo di entrare in molto dettagli ma se anche il vostro server di autenticazione viene bucato l'attaccante non riuscirà a a impersonarvi all'interno dei servizi su cui vi autenticate cosa che invece su out ancora succede se io buco un server di autenticazione o out io ho il controllo di di tutti gli utenti ok il workflow è un po' è un po' classico come vi dicevamo prima abbiamo la separazione tra i quattro ruoli l'applicazione che si connette al client manager gli dice semplicemente voglio autenticarmi qui gli dice neanche con quale utente il client manager chiederà poi all'utente con quale account vuole autenticarsi in quel servizio gestirà tutta la parte di autenticazione e poi verrà semplicemente detto al servizio che c'è un nuovo utente connesso e questo generare le chiavi di criptografia che verranno rimandate dietro a tutta l'applicazione di nuovo in realtà c'è della sicurezza nel mezzo per cui il server di autenticazione nonostante faccia un forward delle chiavi di autenticazione non può di cifratura non può usarle per per decifrare i dati in transito eccetera che ci porta anche ad avere delle connessioni dopo una volta autenticati che sono senza round trip addizionali per per dati eccetera parlavamo dell'efficienza della della gestione del pacchetto qui potete vedere la la struttura in byte di cosa ci serve per una connessione TCP con TLS e stiamo ancora ignorando tutta la parte in HTTP perché adesso tutto deve girare in HTTP e sono come vedete parecchi byte e in realtà andando nei dettagli ci sono di nuovo diverse parti ripetute che non servirebbero in FERRIR invece l'unica cosa in chiaro sono il DD della connessione un header per la cifratura perché serve un minimo per poter decifrare il singolo pacchetto a sé stante e poi tutto il resto è cifrato non si vede assolutamente niente mentre anche con TLS vedete che cosa come versione anche tipo che identifica il tipo di data e tipo di dati e altre piccole cose possono essere in chiaro ma la cosa peggiore è che tutta la parte TCP è in chiaro quindi io potrei sin fare e resettare le connessioni di chi voglio questo in FERRIR in realtà non è possibile di nuovo come abbiamo visto la parte in verde certo la parte di padding è ripetibile quindi io posso avere più stream di connessioni in anche un singolo pacchetto e posso decidere in ogni stream se farlo reliable o unreliable cioè se abilitare meccanismi di ritrasmissione di perdita di pacchetti ordinato oppure no se voglio i dati ordinati oppure no in recezione dell'applicazione se lo voglio a data stream o datagramma cioè se lo voglio come un stream di dati non strutturato stile TCP e dopo vi gestite voi l'inizio e la fine dei messaggi o se gestisce direttamente il protocollo all'inizio e la fine la cosa carina dell'avere l'ID di connessione secco così generato per non avere il classico il classico source port destination port è che abbiamo gratis cose come il multi-homing roaming station quindi semplicemente io ho un cellulare mi attaccano a rete wifi dopo un po' mi sposto in un'altra rete wifi e la connessione resta su indipendentemente da chi gestisce da chi gestisce le due reti wifi la cosa nuova è che riusciamo anche a gestire il multicast ci serve un po' di nuovo tornare sulla cifratura chiave pubblica privata non possiamo stare puramente su quella simmetrica perché abbiamo bisogno di identificare chi manda il pacchetto altrimenti ci sono un po' di attacchi possibili nel mezzo però questo sarebbe il primo protocollo che riesce a dare multicast reliable perché uso un'altra libreria a decorazione degli errori dove sostanzialmente mando i miei dati mando uno stream di dati addizionali che mi permette di recuperare qualsiasi numero di pacchetti persi devo solo decidere quanto roba in più mandare aggiungo un altro stream unicast perché i singoli client possono chiedere dati addizionali in questo modo e ho qualcosa che è molto simile a un multicast parecchio reliable andando avanti come siamo a tempi? è arrivato l'altro relatore? ok allora cercherò di tagliare molto molto corto abbiamo parlato di autenticazione e il problema principale dell'autenticazione è sempre da dove deriva il trust SSL usa i certificati i certificati hanno bisogno di un'autorità di certificati abbiamo visto il casino che è possibile con gli anni passati con tutte le autorità di certificati tutti i certificati che sono stati generati anche per in maniera fraudolenta anche per entità come google.com quindi quindi ho deciso di buttare via tutta la gestione di certificati e di spostare l'autenticazione direttamente su DNSSEC che è la versione sicura di DNS dove semplicemente mettiamo in maniera strutturata le nostre chiave pubbliche direttamente lì noi abbiamo il controllo del DNS e questo ci ci permette di avere di gestire il rinnovo delle chiavi di qualsiasi altra cosa direttamente da noi non abbiamo altri intermediari nel mezzo senza parlare di tutta la complessità nel parsing di x509 vi dico solo che in GNU TLS credo siano 35.000 righe di codice solo per il parsing dei certificati saltiamo un po' l'unshake basta solo dire che ci sono disponibili diverse diversi tipi di unshake a seconda di quanto efficiente lo vogliamo avere però ovviamente più efficiente ce l'abbiamo c'è meno RTT abbiamo e più rischiamo qualcosa in sicurezza anche se generalmente si parla solo di DOS possibili anche questo lo possiamo saltare sostanzialmente ci sono dei segreti addizionali tra client e authentication server e servizio finale per cui come dicevo prima anche se mi bucano l'authentication server e io sono costretto a rigenerare questi certificati l'attaccante non può usare i dati dell'authentication server matematicamente proprio per impersonare i miei utenti nei vari servizi dove si sono autenticati e appunto una volta che rigenero questi certificati sto automaticamente dichiarando tutti gli utenti non questi certificati questi segreti condivisi sto automaticamente dichiarando tutti gli utenti che il mio server è stato è stato bucato e che controllino prima di fare autenticazioni successive eccetera novità finale abbiamo un un grafo di autenticazione dove possiamo definire in maniera strutturata una gerarchia delle possibili delle possibili autorizzazioni che un client può avere queste autorizzazioni sono viene fatto l'enforcing lato server di autenticazione lato client manager quindi io posso dire ad esempio il mio non so il mio cellulare avrà solo autorizzazione in sola lettura per questo servizio e dopo magari da cellulare limitare ulteriormente se ci fosse qualcosa sotto sola lettura per per quel servizio e di nuovo questo è completamente separato dalla gestione dell'applicazione quindi l'applicazione si trova con un tipo di autorizzazione e si mantiene quella quindi a meno di bug o altro all'interno del servizio l'applicazione è limitata da protocollo a quel livello di autorizzazione risultato finale l'utente non deve mai usare un suo nome utente o una password a parte la primissima volta in cui fa il setup del client manager perché poi tutto il resto viene gestito a token e basta dare una conferma di autenticazione il servizio quindi la mia applicazione web ad esempio non vede autenticazioni dati di autenticazioni non ne vede neanche la controparte lato client e di nuovo abbiamo dei limiti da protocollo gestiti da applicazioni separate quindi non è la la singola applicazione che si sforza di restare ad esempio sulla lettura come dicevamo prima semplicemente al stato del progetto abbiamo un librerio di collezione degli errori ormai instabile e Ferrini invece come come protocollo ancora abbastanza in sviluppo credo di essere andato un po' oltre nel tempo quindi se avete qualche domanda veloce sennò vediamo di lasciare subito la parola al prossimo relatore per Blender domande? se volete se volete sì lo com'è? se parliamo fuori ah sì sì parlare fuori quanto volete d'accordo allora ci rimetteremo d'accordo e vedremo se si può rimetterlo magari anche nella scaletta così vedono anche altri grazie per l'attenzione e parola alle probleme grazie per l'attenzione grazie a tutti